La disoccupazione purtroppo aumenta, in particolare quella giovanile che è arrivata al 37% e supera il 50% nel mezzogiorno. Secondo lei sono possibili interventi in rapporto, è tutto legato alla crescita, lo sappiamo, ma il rischio è che tutta la parte dei giovani possa innestarsi una nuova ondata ai migratori al sud-nord, se non addirittura al sud-estero. Sì, purtroppo registriamo anche una migrazione dal nord verso soprattutto la Germania e la Svizzera e per quanto riguarda i paesi al di fuori dell'Europa il primo posto lo detiene l'America del sud. Questo significa che i nostri cervelli, i nostri cervelli intelligenti che sono rappresentati dai giovani, lasciano il paese, lasciano l'Italia, vanno fuori e lì producono e lì si attivano. La responsabilità è un po' nostra, nel senso che noi dovremmo cercare davvero di relegare quanta più risorsa economico finanziaria possibile alla innovazione, alla ricerca per tenere qui i nostri giovani e fa sì che loro rimangano ancorati anche al loro territorio. Sono preoccupato di questa fuga dei nostri cervelli, laddove vedo i giovani andare in altri paesi e da emergere rispetto al paese d'Italia. C'è questa dicotomia anche il nord-sud per cui molti giovani meridionali vanno al nord. Le conseguenze sono determinate da un impoverimento sociale dei territori che perdono le risorse giovanili e aoltre l'impoverimento sociale la solitudine che devasterà anche questo territorio, quindi la necessità di spenderci nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia e far sì che i nostri ragazzi siano orgogliosi non di essere soltanto italiani, ma anche di appartenere a questa terra meravigliosa che i nostri genitori ci hanno consegnato, ma che noi evidentemente non siamo stati capaci di onorare. Grazie a tutti.